Armando Scalise è il direttore della stazione sciistica del villaggio Palumbo, questa stagione invernale come è andata? Buonasera innanzitutto, una fantastica stagione invernale anche se è cominciata tardi ma un febbraio che erano anni che non faceva tanta neve naturale e quindi una stagione eccezionale dove ha visto principalmente diversarsi qui in Calabria tutta la Sicilia e la Puglia, tutto extra regione, a partire dagli alberghi che non hanno avuto un posto per tutto febbraio quindi la richiesta è eccezionale, mai 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 come quest'anno. Neve splendida, ancora oggi stiamo sciando e siamo nella prima settimana di marzo, rimarremo aperti fino alla seconda quindi ancora una settimana e poi la stazione va verso la chiusura. L'unica pecca che purtroppo come villaggio Palumbo, come provincia di Crotone è rimasto solo un impianto di risalita, quello che alle mie spalle è una seggiovia triposto, ne avevamo quattro e ne è rimasta solo una, questa è una grande pecca e un disagio proprio per tutta la stazione in quanto soffriamo molto il fatto di non avere più impianti. L'altra cosa che devo comunicare, quindi quasi un messaggio, la stazione con questa stagione invernale cesserà la sua vita, la società che rappresento lascia gli impianti e lascia gli impianti con la speranza che diventano pubblici come quello di Lorica, Camigliatelle e Gambari che verranno gestiti da ferrovie della Calabria. Quest'anno ad agosto chiuderemo totalmente la stazione, se non interviene il comune di Crotoneo, la provincia e la regione, questo impianto per la prossima stagione invernale rimarrà chiuso. Che novità ci sono per la stagione estiva che tra poco arriverà? Beh, è normale, visto che abbiamo finito con la stagione nervale, ripartiamo con la stagione estiva e la struttura ricettiva che alle mie spalle, il National Park, sta riscuotendo un successo eccezionale. Verrà costruita una nuova spa innovativa, quindi già per quest'estate il National Park avrà due spa, una un po' più di elite lusso con delle macchine nuovissime di ultima generazione, ma il regalo più bello che faremo come gruppo è il lago. Il lago che vivrà quasi tutto l'anno, continua a vivere tutto l'anno anche con la neve e in arrivo il grande battello taglia ghiaccio, quindi arriverà ad aprile una barca che porterà almeno 30 persone in giro per il lago e anche sulla nostra isola, così che la chiamiamo, l'isola dei pirati dall'altra parte del lago. In più le barche elettriche, l'innovazione di tutto quello che sono le imbarcazioni, le ultime generazioni, il pontile sul lago e poi una piscina bellissima che verrà inaugurata sicuramente per luglio, per la stagione estiva. Queste sono le novità insieme a quella che è la pista di Bob d'Acciaio, ancora unica per il suo genere in Italia, le piste di Bob che primeggiano ancora anche per una sola volta quest'estate, quindi per l'ultima stagione estiva. Grazie. Grazie.